Buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia un'altra settimana di fuoco con Supercoppa, secondo me la gara più importante della stagione, secca, in cui in palio c'è un trofeo subito contro la Juve per riaffermare il predominio e la supremazia, una gara poi molto importante, non solo perché è esclusiva a Sport Mediaset, ma anche perché anche dal punto di vista psicologico potrebbe essere un ulteriore rafforzamento della convinzione, della propria fiducia, o al contrario, speriamo proprio di no, abbiamo visto insomma come l'Inter, nonostante i pareggi con Milan e Juventus e soprattutto con la vittoria sulla Roma ha riaffermato, ha fatto un po' calare le convinzioni delle avversarie e da lì ha iniziato una lunga corsa che continua con l'ottava vittoria consecutiva chiaramente sono arrivati un po' di messaggi critici, nel senso che considerano la gara di ieri come stradominata parzialmente sì, però possiamo anche dire che non era la stessa Inter di prima delle vacanze i 18 giorni di stop si sono sentiti soprattutto nella testa con quella pericolosa pausa della difesa dopo la Supercoppa all'Atalanta, gara ancora più difficile con questa classifica falsata dai rinvii delle partite che comunque crea problemi perché mette pressione un discorso sarebbe stato giocare comunque col primo posto e un Milan a meno uno differente vedersi i rossoneri davanti di due lunghezze addirittura e doverli risuperare problemi e errori del passato su cui non si è riusciti ancora a diciamo migliorare come conferma anche il Teccaldo più famoso di YouTube prima cosa che mi viene da dire oltre ai complimenti della squadra che comunque si è portata a casa a tre punti preziosi dicevamo critiche perché tutti sostengono gran parte che la partita sia stata stradominata dall'Inter vero come dimostrano i dati numerici il possesso palla soprattutto nel primo tempo 68 a 32 contro la squadra che fa più possesso palla nel campionato italiano la Lazio che invece ha deciso vista la superiorità dell'Inter di mettersi tutta dietro e giocare in contropiede con le ripartenze però non era la stessa squadra come dicevo prima si è sentita la pausa d'accordo anche il Teccaldo si è sentita la pausa e c'è stata insomma quell'amnesia difensiva generale prima e poi nel finale un po' di sofferenza come giusto che sia con un avversario di valore come la Lazio come c'era stata anche col Torino a fine partita anche se non è che ci siano stati queste grandissime occasioni però Andanovic lì l'ha risolta con De Vrij e Skrina che avevano fatto un altro pasticcio rinviandosi la palla uno sull'altro e fornendo un'assista immobile bravo Samir in uscita bassa miracolosa vedo una sfizia di voti assurdi soprattutto la Gazzetta ad Andanovic evidentemente dallo stadio non ti puoi rendere conto di come fosse in vantaggio Skriniar su Immobile conferma anche del Teccaldo New Song dicevamo come Immobile fosse nettamente dietro Skriniar magari anche furbescamente fa un fallino tirandogli la maglia e guadagnando posizione con De Vrij che sembra veramente stralunato che si gira su se stesso non capisce dove è, dove sta arrivando il pallone e non è la prima volta in questa stagione mi ricordo il retropassaggio di Sassuolo per esempio e Samir se ne è reso conto all'ultimo che stava succedendo il frittatone e ha provato un'uscita alla disperata ma dagli 4, 4 e mezzo, 4 adesso non ricordo vediamo poi la segnala Sampa mi sembra non aver visto cosa è successo bene e mi sembra anche non riconoscere i meriti di Samir che poi l'ha salvata con quell'uscita e con quella parata anche su Pedro che poteva essere il 2 a 1 e mandare veramente in crisi mistica la squadra poi l'ha dormita anche di tutti quelli che a centrocampo hanno lasciato giocare Cataldi e non hanno opposto resistenza al suo filtrante per Immobile Samir secondo me è quello che ha meno colpe di tutti e 4 e mezzo significa un voto che non sta secondo me né in cielo né in terra ma aspetto anche le vostre considerazioni hashtag angolodellaposta per appunto farle e gruppo Telegram come sempre per essere aggiornati sui nuovi video sulle nuove iniziative del canale sulle notizie come ieri come sul canale per primi abbiamo dato la notizia che avrebbe giocato un Gagliardini che qualcuno ha il coraggio di criticare anche dopo la prestazione di ieri sera maiuscola per come ha bloccato Milenkovic Savic che all'Inter segna sempre ha sfornato un duello tutto fisico molto importante poi è riuscito anche a recuperare palloni preziosi per tutta la gara quindi più che sufficiente sicuramente la sua prestazione adesso bisogna pensare all'Atalanta ma prima come dicevamo ha una gara ancora più importante perché in palio c'è un trofeo preziosissimo per fortuna Lautaro non si è fatto ammonire se no sarebbe stato squalificato come saranno De Ligt e Quadrado che uno è espulso e l'altro ammonito da diffidato mandiamo un in bocca al lupo a Federico Chiesa speriamo vivamente che non sia il crociato e che non sia stagione finita per lui perché vorrebbe dire fargli saltare anche i playoff e chissà quanti mesi di lontananza dai campi anche in chiave nazionale sarebbe una tegola pesantissima un Inter che deve cercare a tutti i costi di vincere sotto gli occhi del suo presidente che ieri è tornato a San Siro c'era già il canale 19 dei cialtroni misti che ipotizzava che portasse sfortuna perché hanno iniziato a ridurre la capacità degli stati con il suo arrivo ma ditemi voi come si può fare anche solo a dire certe cose che non prenderemo mai più in considerazione hanno già sono già devono già fare il conto con le loro figuracce e credo che le abbiate capite tutti i pifferai magici con un Steven Zhang che è andato negli spogliatoi a congratularsi con Inzaghi e con la squadra si era dimenticato di quanto si soffriva detto a Inzaghi e di come appunto fosse anche bello esultare per una vittoria così importante e stare lì in betta alla classifica da oggi lavoro in sede anzi quando stiamo registrando è già nel suo ufficio in via della liberazione i contratti della dirigenza da rinnovare così come quello di Brozovic che probabilmente verrà annunciato dopo la Supercoppa e un minimo di investimenti da fare sul mercato di gennaio se ci sarà un'occasione si potrebbe anticipare l'arrivo di Kostic se l'Aintracht accetterà un prestito con obbligo di riscatto del serbo gestito da Luci che invece deve vedere che cosa farà Kolarov c'è il Genoa sul giocatore che però non sembra interessato c'è questa ipotesi di ritiro per i problemi fisici che non ha risolto dopo l'operazione alla schiena ancora un po' di fastidi vari ed è una zona molto delicata lo so io molto bene che ho smesso proprio di giocare per problemi analoghi a pallacanestro e insomma vedremo cosa accadrà in questa settimana così importante ma la cosa fondamentale era iniziare con il piede giusto con una bella vittoria anche se sofferta con un po' di ruggine da togliere un problema però che mi sembra che dimostri la gara di ieri dove hanno segnato i difensori uno straordinario bastone a cui abbiamo dedicato anche la copertina di oggi del nostro super Fabio Nierazzurro con l'asso di bastoni un gol e un assist migliori in campo come abbiamo detto il nostro pagellone da andare a vedere se non l'avete ancora fatto è un po' insomma l'attacco forse servirebbe una forza più fresca di quelle che ci sono Lautaro aveva segnato pochi centimetri in fuorigioco peccato anche se questi fuorigioco secondo me non hanno non hanno ragione d'essere d'esistere e poi Sanchez ha giochicchiato ha fatto cose importanti ma sempre lontano dalla porta Geco e Correa sono entrati senza incidere forse è una riflessione magari si deve fare per un elemento più d'area di rigore che possa anche essere utile nei finali di partita sottopongo a voi anche questa considerazione e adesso testa alla Supercoppa grande esclusiva Sport Medias che cercheremo di farvi vivere nel migliore dei modi già da domani con la vigilia e poi con una super serata su canale 5 sperando che i numeri del contagio possano scendere e che il picco sia già stato superato si possa tornare piano piano a una normalità un po' di vostri messaggi invito sempre i nostri amici del gruppo sub privato esclusivo Telegram a mandare anche gli audio per essere più protagonisti anche dei video naturalmente se ne hanno voglia se no non obblighiamo nessuno era un vantaggio che vogliamo dare a loro che supportano il canale e andiamo a leggerci ora i messaggi più popolari al video pagelle e per anche commentare la gara di ieri sera eccoci qui arriva che squadra che mentalità che determinazione ben 14 like per Biagio Tondo vittoria preso da Polli per non dir di peggio ma il 2-1 va stretto per quello che i ragazzi hanno creato una menzione speciale a Roberto Gagliardini gran partita meno male che lo riconosce qualcuno Anthony Magnoni va bene vincere ma vincere senza mai arrendersi tirando fuori la forza il coraggio e la voglia è una vittoria ancora più importante però la sosta fa male perché il gol subito dimostrazione che si diventa più arreuginiti testa la Juve prendiamoci il primo trofeo dell'anno buona serata Marco grazie per essere sempre puntuale con i tuoi video io ringrazio voi che siete sempre presenti con il vostro contributo sul canale Roberto Regaioli grande squadra determinate tosta dopo la sosta non è mai facile complimenti zio Ale ancora l'abbiamo già letto Black Rose Immortal grandi ragazzi splendida prova di forza contentissimo per il basso che meritava la soddisfazione personale del gol me lo sarei aspettato di testa invece dimostrato quando la situazione lo richiede può fare affidamento anche sul suo piedino niente male Francesco Giaconelli vittoria della grande squadra e si torna in testa alla classifica adesso la supercoppa Andrea Pà che ci fai a casa con una playta come questa ma anche con un freddo come quello che c'era non è male non è male poi hanno chiuso di nuovo le mix zone le possibilità di fare interviste devo dire che all'inizio non mi è piaciuta la squadra sembrava che tutti facessero i fenomeni troppe palle banali persi in avanti per eccessiva sicurezza poi pian piano siamo usciti grande Sanchez che a centrocampo ha sbrogliato tante situazioni a rischio il solito brozzo ovvero l'immensità bastoni ormai indiscutibile il mio caro Galli ha annullato Milinkovic anche in avanti ha giocato bene anche se effettivamente la mancanza di Ciala si è sentita in costruzione non era facile un'ulteriore difficoltà in più la mancanza di Ciala però abbiamo sottolineato la bella partita di Gagliardini Franco Saggioro una bellissima serata ne vassa la pena di prendere un po' di freddo poi alla fine esultare bravi tutti questa sera bastoni ha giocato l'asso e ha anticipato la nostra copertina merita lotto in pagella la mentalità adesso che l'abbiamo acquisita non perdiamo la vittoria straimportante tutti bravi nota di merito per Gagliardini bravissimo nel duello tutto fisico con Milinkovic Michele Ferrante bastoni miglior difensore al mondo completo senza se ne ma ab la prima è andata periodo tremendo se teniamo la testa nonostante queste partite durissime possiamo farcela direzione seconda stella Luca Clerici Brozovic sempre regale Perisic in forma smagliante Sanchos in netta crescita bene Lautaro Ne un abbraccio a Gabri Melodinuz prima della classe meritatamente il primo posto che ci appartiene Andrea Gavagnin bellissimi questi tre punti dispiace regalare quei gol e troppe occasioni sprecate Max Power ho apprezzato grandemente la capacità di incanare la rabbia per aver preso il gol anche se ci ha messo un po' la squadra a riprendersi buonasera Marco Cosimo Reale che bella vittoria proprio perché è sofferta arrivata con le unghie e con i denti si è vista una squadra un po' arrugginita nei meccanismi ma va bene così ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato all'andata bella partita Dennis Bevilacqua abbiamo dominato sofferto un pochino nel finale Frank Nerazzurro ottava vittoria tutti a nanna i cialtroni si smentiscono da soli caro Marco il primo tempo eravamo un po' arrugginiti nel secondo siamo tornati quelli di dicembre non all'inizio ci è voluto un po' anche se poi di occasioni c'è stato quel mischione con Dumfries e poi Sanchez a sbagliare a tu per tu e poi il 2-1 di Screener e poi praticamente nient'altro qualcosina si può sicuramente migliorare Lollorispoli operazione vendetta compiuta vittoria meritata poi vediamo se c'è qualche altro abbonato che scrive minimo permettetemi di precedenza Bruno Pollini se Bastoni cresce a questo ritmo andrà al posto di Perisic a sinistra su quello non lo so perché anche ha sbrogliato diverse situazioni difensive difficili poi non capisco cosa scrive Giorgio Colombo voglio iscrivermi al canale ma normalmente me lo scanano dal telefono rispondetegli Lollo fallo tu o qualcuno lo aiuti e fatevi spiegare qual è il problema direi che ci siamo andiamo adesso con la nostra consueta rassegna stampa con tutte le notizie di marca nera azzurra e non solo cominciando come sempre con l'app di Sport Mediaset quindi aggiornata rispetto ai giornali al momento in cui stiamo registrando vediamo l'home page se dedicata all'Inter che si guadagna la testa no Diokovic vince la causa e riottiene il visto ma è giallo nuovo fermo a Melbourne la situazione che sta veramente appassionando tutto il mondo non solo sportivo l'analisi intercapolista sempre più solida ma il Milan è tornato e ci crede al trattego la Juve ansia chiesa si teme per il crociato la Cop di Inzaghi il flop di Mau e la sinfonia dei tre tenori le sdottorate vola Milano risorge la Juve vince soffrendo il Napoli e sprofonda Roma le indicazioni la seconda di ritorno di Matteo Dotto gol con un mancino forte e preciso da 20 metri nel primo tempo assist per la testata di Skrina nella ripresa Bastoni è sedicesimo marcatore in campionato della nuova Inter di Simonin Zaghi diciottesimo contando anche le reti in Champions di De Vrij e Brozovic una vera cooperativa del gol quella nera azzurra che vede all'asciutto tra i giocatori di campo solo Kolarov Ranocchia Sesi e il giovane Satriano quattro che il campo lo vedono comunque piuttosto di Rado l'Inter ricomincia insomma l'anno nuovo come aveva finito quello vecchio vincendo di Missura 1-0 sul Torino 22 dicembre l'unico a non essere del tutto felice forse Andanovic che vede frantumarsi la sua imbattibilità dopo 586 minuti Gazzetta dello Sport andiamo a aprire il quotidiano rosa prima pagina dedicata all'Inter e meno male anche se poi vedete qualcuno non vuole la rassegna stampa ma è anche curioso poi andare a commentare insieme i quotidiani in edicola perché si trovano un po' di magagne Inter testa al bacio Lazio battuto a 2-1 con i difensori Bastoni Shaw e Skriniar resta prima con l'ottava vittoria di fila mercoledì a San Siro Supercoppa con la Juve Juve gioia e crack rimonta special su Mo in 7 minuti ansia per Chiesa si teme il crociato e poi il Milan è sempre lì comanda l'Inter sono 8 di fila gol di Bastoni e Skriniar la Lazio la fa soffrire in Zaghi tiene il primato Moviola Lautaro gol offside minimo il Var correggio il rosso ma in quell'occasione diciamo che c'era rosso diretto per Zaccani per l'entrata su Barella e comunque Radu che fa due falli in contemporanea quasi si sarebbe meritato anche il doppio cartellino niente sorpasso l'Inter respinge il tentativo del Milan resta capolista più uno ma con un vantaggio potenziale di più quattro perché i campioni d'Italia devono recuperare la partita col Bologna l'ottava vittoria consecutiva in campionato un gran filotto è arrivata contro una Lazio non sariana nel senso che nel caccio di Sarri continua a vedersi poco per ampi tratti nulla oltre ai macronumeri va evidenziato un fattore tecnico straordinario l'Inter ha segnato con due difensori Bastoni e Skriniar e il primo oltre a far gol improprio con un gran sinistro ha servito l'assist per la testa del secondo una coralità diffusa si potrebbe aggiungere che Bastoni è stato il sedicesimo marcatore intervista della stagione si potrebbe aprire un capitolo sulle diagonali difensive di Perisic per dimostrare come tutti facciano tutto nel calcio di Inzaghi aggiungiamo un altro elemento la grande squadra è tale quando rimedia i propri errori come l'Inter ieri regalato l'1-1 alla Lazio per un eccesso di sufficienza è sopravvissuta qualche minuto di sbandamento tra i due tempi ha rimesso le mani sulla partita un gruppo forte maturo un organico senza falle mancava a Cialanoglu per squalifica l'assenza non si è notata troppo ne ha interferito sul risultato Pagelle che vi ho già detto con questo 4,5 da Andanovic scriteriato che non ha senso secondo me 7 inzaghi 8 a Bastoni minore in campo partita spot del difensore moderno che fa tanto e tutto bene 4,5 Andanovic ferma 587 minuti in imbattibilità la ferma lui con un'uscita sciagurata regalo di Natale tardivo per immobile pensare che pure Onana suo successore designato nel pomeriggio in Coppa d'Africa aveva sbagliato un'uscita ma l'uscita non è sbagliata di Andanovic sono Scrinia e De Vrij che fanno la frittata cui cerca di rimediare Samir in qualche modo con un'uscita alta pensava di poter riuscire a togliere il pallone a immobile in ogni caso comunque non si è fatto espellere condizionando la partita quindi non sono assolutamente d'accordo sul 4,5 anche per gli interventi che poi ha fatto 6,5 Scrinia 5,5 De Vrij 6 Dunfri Sbarella 7 Brozovic 6 Gagliardini anche qui mi sembra veramente poco 6,5 Peris c'è Sanchez come Lautaro 6 Correa e Darmian 5,5 Dzeko perché 5,5 che cosa doveva fare che ha fatto un allenamento negli ultimi 10 giorni Inzaghi ha il bastone segreto difensore d'attacco in missione Scudetto così ci divertiamo e vinciamo pure primo gol in campionato del basto primo gol in stagione non solo gol ed edizioso assist a Scrinia il mancino ormai è faro di un reparto che sa sostituirsi alle punte ora restiamo lassù in vetta Sarri irritato dall'indice di liquidità cos'è non capisce il blocco al mercato non capisco perché accada Tare Lottito torna il tecnico rinnova Simone intanto vola una vittoria diversa da tutte c'è l'abbraccio del presidente di Simone c'è da affidarsi c'è da starlo a sentire prima della partita davanti ai microfin aveva detto la sconfitta dell'andata con la Lazio beh rispetto ad allora le cose sono cambiate sì che si è visto inzaghi ora quello dell'ottava vittoria consecutiva è quello che per prima ha ricevuto i complimenti dal presidente Zang negli spogliatoi subito dopo la partita abbraccio tra i due prima delle pacche sulle spalle saluti con tutti i giocatori questa sofferenza non la ricordava scherzato con i suoi uomini il presidente con i suoi giocatori invece l'allenatore esultato dopo il successo contro la sua ex squadra sapete cosa vuol dire per me la Lazio è stata la mia vita non è una vittoria come le altre ma per tutto quel che mi sta dando l'Inter volevo questi tre punti con tutte le mie forze adesso la Supercoppa e la gara con la Juve è curioso che nella analisi invece della vittoria del Milan non ci sia neanche una moviola con tutti gli episodi dubbi l'entrata di Sala Makers da rosso secondo la maggior parte dei moviolisti diversi rigori anche contatti in area dubbi non c'è la moviola della gazzetta sulla partita strano perché c'è su quasi tutte le altre gare più o meno di cartello andiamo al Corriere dello Sport prima pagina dedicata all'Inter l'Inter è una roccia il titolo del Core Sport anche se poi il fondo è sul campionato falsato l'Inter è una roccia Bastogna e Skriniar si esaltano Inzaghi ora la Supercoppa Doppioteo a Venezia Festa Pioli Milan più maturo il remuntà da Juve clamoroso blitz all'Olimpico Inter tutta testa in vantaggio con Bastoni la difesa regala il pareggio immobile risolve Skriniar volando in cielo reazione bianco-celeste nel finale nera-azzurri rispondono al Milan e conservano il primo posto con una partita in meno la Lazio però gioca bene non molla e fa soffrire i campioni fino all'ultimo secondo ottavo successo di fila è rivincita sull'unica squadra che l'aveva battuta e Zaghi ha puntato sul possesso palla Sarri ci ha provato con le ripartenze e mi sembra che anche l'ingresso di Luis Alberto abbia dimostrato come meriti di giocare lo spagnolo e che Sarri insomma tenerlo fuori tanto Bastoni Gagliardini ok Sanchez Cuce Brozovic un'altra conferma uscita vuoto di Andanovic anche qui stessa risposta che vi diamo Inzaghi 7 Andanovic 5 Skriniar 6 e mezzo De Vrij 5 e mezzo Bastoni 8 Dunfrise e Darmian 6 come Barella vi dà senza voto Brozovic Gagliardini e Perisic 7 come Sanchez su cui siamo abbastanza d'accordo 6 Geco e Correa 6 e mezzo Lautaro Martinez anche se nel secondo tempo non si è mai visto Inzaghi al top orgoglioso dell'Inter la cosa più bella la partecipazione di tutti anche di chi ha giocato meno vittoria meritata ora la Supercoppa non fermiamoci perché le altre corrono Sanchez non si discute sapore speciale per me la Lazio mi ha cresciuto è stata la mia vita dirigenza confermata al piano di Zang Marotta Ausilio e Bacin resteranno fino al 2024 e forse fino al 2025 anche per Inzaghi c'è area di rinnovo ma a fine stagione mercato Kostic ora poi altri colpi in estate su bond e stadio tra gli altri temi il bond a rifinanziare operazione quasi conclusa la nuova scadenza sarà nel dicembre 2027 il nuovo San Siro per il quale dopo lo che ha l'interesse pubblico ci sarà il dibattito con i comitati di quartiere la cessione del quote maggioranza o minoranza invece non è all'ordine del giorno se l'americano Strauss già nei prossimi giorni darà seguito al suo interessamento per il club rimarrà un segreto custodito solo da Zang questo il Corriere dello Sport che fa retromarcia anche sugli americani per concludere tutto sport che una volta per una volta è quello che più sentiamo nel giusto l'interesse al comando Lazio battuta Milan respinto difensori regalano in Zaghi l'ottava consecutiva bastoni golle assist a Sarri non basta immobile le parole di bastoni la rete una sensazione strana perché erano due anni che non segnavano mi sembra l'ultimo a Lecce può essere e adesso rinnovi ai dirigenti presidente Zangher allo stadio pronto a prolungare i contatti Marotta ausilio e bacino almeno fino al 2024 Sarri una buona Lazio in Zaghi favoriti ma a metà ottobre nessuno lo diceva e finalmente qualcuno che mi segue o ha visto come me che non era colpa di Andanovic sei in pagella per tutto sport sette a Skriniar cinque e mezzo a De Vrij il peggiore bastoni sette e mezzo il migliore Dunfri sei e mezzo come Barella sette Brozovic sei Gagliardini un po' poco sei Perisic un po' poco sei Sanchez forse mezzo punto in più sei Martinez sette Inzaghi cinque e mezzo Correa e senza voto poi gli altri vediamo se c'è Dzeko anche lui cinque e mezzo mi sembra un po' esagerato e vabbè direi che per oggi ci siamo torniamo stasera in live come sempre poi tante novità in arrivo per insieme alla Supercoppa grazie e mi raccomando sempre sintonizzati ciao Pifferi